Cianluca! Cianluca! Non si sente però, siete musci, capito? Aspetta, signora, è un festival di filosofia, sì. No, perché può sembrare una... Signora, meravigliosa, poi arrivo a farti sentire un po' di presenza, non ti preoccupare, come ti... Cava meravigliosa, abbaffa il culo. Allora, Cianluca, stavo a parlare di te. Se io dico Cianluca, voi dite, dai cazzo, Cianlu... Aspetta, che cazzo! Aspetta, vedi, voi dite dai cazzo e poi dite dai cazzo. Queste sono quattro rincoiudite, perché ne avete fatte entrare queste? Allora, se io dico Cianluca, voi dite dai cazzo, Cianluca! Dai cazzo! Cianluca! Dai cazzo!